Si sono riuniti per chiedere di risolvere la situazione, essendosi di fatto ritrovati bloccati al pari degli esercenti dei grandi centri commerciali. Sono i negozianti dei cosiddetti centri commerciali, di fatto però inesistenti, di bottega, montecchio e morciola, costretti a chiudere dal governo nonostante accessi indipendenti ed ingressi all'aperto. Per questo in mattinata hanno tenuto un incontro al centro le 100 vetrine di Vallefoglia. Si, rientra in tutto questo, rientra un fatto molto importante che è stato messo alla luce in questo momento, anche col sindaco, riguardante la concorrenza sleale. Una concorrenza sleale che noi in particolare abbiamo in un'area anche più vasta perché avendo un prodotto di richiamo come quello natalizio, essendo chiusi, ovviamente i nostri clienti andranno a trovarlo altrove. Ci sono dei casi eclatanti come un negozio di detergenza che ha a fianco a me, che deve chiudere il sabato e la domenica, invece nella stessa struttura a livello organizzativo e a livello strutturale è identica. Un altro negozio con la stessa tipologia merceologica invece gli è stata data la possibilità di tenere aperto il sabato e la domenica. Questo crea proprio una concorrenza sleale. La norma dice che i centri commerciali classificati tali sono chiusi, noi abbiamo quattro centri commerciali però non sono chiusi come l'Iper a Pesaro che è chiusa, il Conad e così via. Da noi sono aperti, quindi noi pensiamo che si debba interpretare questa norma che i quattro centri commerciali di Vallefoglia debbano essere aperti, quindi interloquiamo con la regione e col governo perché questo avvenga quanto prima. Stiamo valutando anche con chi ce li ha proposti se si può cambiare la dicitura dal punto di vista della presentazione delle pratiche. Quindi stiamo cercando di dare una mano ai commercianti perché questi quattro centri commerciali in effetti sono aperti, quindi non si capisce se la razza è quella di evitare assembramenti. Qui secondo noi non ci sono assembramenti e dovrebbero mantenere aperti. Io sono Luca Mancini, titolare del Caffè della Fortuna, uno dei tanti bar dentro questi centri commerciali fantomatici. Il nostro intento è che per colpa di una dicitura che siamo risultati centro commerciale siamo in svantaggio rispetto agli altri. Sono sei centri commerciali nel comune di Vallefoglia di cui quattro registrati con una dicitura diversa ma effettivamente sono uguali agli altri. Due rimangono aperti e quattro chiusi. Io ho organizzato questa manifestazione chiamando tutti e quattro i centri coinvolti, il sindaco e le autorità per cercare di trovare una soluzione a questo svantaggioso problema. Sì è vero, ci sono circa un centinaio di attività diverse divise in quattro centri commerciali che per le norme previste dal DPCM devono rimanere chiuse il sabato e la domenica. Purtroppo però qual è l'anomalie? Che questi non sono veri e propri centri commerciali, lo sono solo sulla carta per la licenza che hanno avuto. E non può essere una distinzione amministrativa fare la differenza in un periodo difficile come questo in cui la crisi principale è vera e quella epidemiologica ma c'è anche una crisi economica fortissima che le attività stanno vivendo. Ad oggi quindi cosa chiediamo? Io in Regione sto cercando di impegnarmi per far capire qual è la distinzione tra centro commerciale e parco commerciale. Mi auguro quindi che la Regione capisca questa distinzione e possa anche rilevare questo distinguo importante mettendo in condizione di lavorare tutte queste attività, circa un centinaio di negozianti. Spero davvero che si possa risolvere entro questa settimana e che in Regione lo stesso assessore alle attività produttive capisca questa problematica al più presto.